È il più grande investimento che si possa fare, mi viene da dire che la scuola è un investimento primario e quindi tutto quello che noi facciamo sulla scuola dovrebbe essere messo a capitale, sul capitale umano che è così importante per la sopravvivenza del nostro pianeta da un lato e dei nostri sistemi. Il bilancio di questa iniziativa è estremamente positivo e riflette davvero peraltro l'attitudine e la voglia di Enel di essere sostenibile anche rispetto alle comunità locali, alle comunità presso le quali operiamo essendo una grande azienda territoriale. Faremo 60 scuole, completeremo le 60 scuole e poi ci avviamo a realizzare 10 interventi nelle aree che hanno subito il terremoto e poi perché fermarsi? Perché se noi diciamo che questo è un progetto replicabile anche con attori diversi, io non credo che però le cose si replichino proprio automaticamente, quindi penso che l'impegno di Reggio Cildren nostro dovrà continuare per fare in modo che abbia una leva più grande, usiamo spesso il termine leva, noi vorremmo aver attivato anche una leva che possa essere attivata da altri sul territorio. Quello che abbiamo fatto è lasciare comunque alle comunità e ad attori diversi un modello replicabile, quindi è come se avessimo fatto un progetto che ha una grande potenzialità di leva, quindi può essere fatto anche da altri.